Un artista costantemente in movimento, l'avete riconosciuto, Sebastian Matta e guardate che di matta abbiamo più di un'opera da fare esitare all'asta di lunedì 21 maggio, però adesso vi presentiamo questa per cominciare a stuzzicarvi perché è un'opera bellissima, meravigliosa, è un'opera di un artista che ha attraversato tutta l'arte moderna attraverso movimenti artistici fondamentali con contatti con i più grandi nomi dell'arte internazionale e che a sua volta ha condizionato tanti altri artisti perché quando lui scappa allo scoppio della seconda guerra mondiale, scappa a New York, da lì poi Pollock, tanto per fare un nome, o Gorky sono quelli che vengono influenzati dalla sua arte e intanto quando poi arriva in Italia, perché lui appunto era cileno e nasce nel 1911 in Cile, quando lui arriva in Italia diventa un anello di congiunzione fondamentale, fondamentale perché? Perché con l'esperienza che ha potuto avere e con ciò che ha assorbito come stilemi di arte modernissima, dei fermenti, dei cambiamenti dell'arte che c'erano in corso in quegli anni, lui quando arriva a Roma attorno agli anni 50, a fine anni 40 diventa veramente il punto nodale, lo snodo culturale, intellettuale, artistico, l'anello di congiunzione tra l'espressionismo astratto e il nascente e il nascente astrattismo italiano che aprirà poi le porte a tutti quei grandi artisti astrattisti italiani che spesso abbiamo l'onore e il piacere di portare la vostra attenzione. Quindi stiamo parlando di una figura fondamentale dell'arte italiana, europea, mondiale. Allora diamo subito gli aspetti tecnici di questa bella opera di Sebastian Matta, vi invitiamo sempre qui in Corso Tassoni 56 a Torino per chi è comodo a venire a passeggiare durante la settimana a vedere queste opere. Ricordatevi, andate sul nostro sito santagostinoaste www.santagostinoaste.it guardate gli orari, tranne la domenica e il lunedì mattina che siamo chiusi, siamo sempre aperti, venite a visitarci e a respirare l'aria della vera arte e poi sotto i 7, 8, 9 giorni prima dell'asta c'è l'orario continuato e lì potrete venire a vedere dal vivo, dal vero, tutte le opere che verranno esitate. Allora, in compagnia di questo splendido lavoro di Sebastian Matta, senza titolo, tecnica mista su carta, 58 per 74 quindi importante, l'opera è siglata in basso a destra, eccolo qui, guardate, attenzione, 10.000-14.000 euro la stima minima massima per un artista che non conosce assolutamente stanca, non conosce momenti di stanca perché la sua arte è lanciata veramente verso il futuro, noi la proponiamo, ha una base d'asta di soltanto 7.000 euro, base d'asta si parte da 7.000 euro per questa opera di Sebastian Matta, 7.000 euro che sono rateizzabili in 12 mesi senza interessi. Allora, abbandoniamo il tratto libero, gioioso, assolutamente senza confini, con questi corpi nudi che si abbarbicano su questi spazi, su queste stanze, su queste aperture, con questo cielo che diventa un mare che entra nelle insennature, tutto dall'idea di spazio e di libertà e il modo di vedere la vita e l'arte di Sebastian Matta. 7.000 euro base d'asta e corriamo subito alla prossima opera.